Dopo gli operatori turistici scendono in campo anche gli operatori commerciali del Centro Storico di Sciacca e precisamente le attività aderenti al Centro Commerciale Naturale Spazio Centro a proposito dell'assenza di eventi lungo il circuito tradizionale del Carnevale in occasione dell'edizione 2024. Si dicono preoccupati i commercianti aderenti a Spazio Centro dalla totale assenza di iniziative e chiedono al Sindaco di organizzare degli eventi nei giorni canonici del Carnevale quindi da giovedì 8 a martedì 13 febbraio condividendo in tal senso la proposta avanzata alcuni giorni fa dall'ex Assessore Salvatore Monte il quale come è noto ha lanciato l'idea di fare sfilare in Centro Storico nelle giornate del giovedì e del venerdì grasso i gruppi mascherati che precederanno i carri allegorici. Non sarebbe male, proseguono nella nota Aurelio Pellegrino e Fabio Venezia a nome delle 127 attività commerciali ricadenti nel circuito del Centro Storico organizzare qualcosa anche nelle giornate di lunedì 12 e martedì 13 febbraio come per esempio esibizioni di gruppi mascherati in piazza Angelo Scandaliato oppure dei concerti come quello proposto dalle musicista saccense Nanagulino. Piccoli eventi prosegue Spazio Centro che rappresenterebbero per il Centro Storico un sano ritorno alle vecchie tradizioni e per il comparto tutto, bar, pub e attività commerciali in genere una boccata d'ossigeno. Spazio Centro infine, nato oltre 15 anni fa, è sempre coinvolto dalla sua costituzione a quasi tutte le assemblee ai vari tavoli tematici dedicati ad eventi come Carnevale, estate saccense e viabilità, si dice rammaricato per non essere più stato invitato negli ultimi periodi a nessuno di questi incontri.